Con un'ottima affluenza alle urne si va dal 62 al 70%, va in archivio in provincia di Arezzo un'altra tornata elettorale che vedeva quattro comuni al voto, due sopra i 15.000 abitanti Montevarchi e Sansepolcro e due sotto questa soglia Civitella in Valdichiana e Anghiari. La prima vittoria in termini di tempo è arrivata per Andrea Tavarnesi, eletto sindaco per le forze di centro-sinistra, a Civitella in Valdichiana con il 65-47% dei consensi contro la candidata del centrodestra, Rosaria Migliore, che si ferma al 34-53. È stata una gran prova di democrazia, tanti cittadini sono andati a votare, il 62%, ringrazio tutti i cittadini che hanno votato e che hanno fatto questo atto importante, di andare a eleggere quello che è il sindaco. Qual è l'emozione però personale di oggi? C'è un'emozione personale, sento tanto il peso della responsabilità, responsabilità perché abbiamo un programma ambizioso, un programma che vogliamo portare, eseguire e nei prossimi anni, quindi oggi festeggiamo e da domani mattina ci mettiamo al lavoro. Rimane al centrodestra Anghiari con la riconferma di Alessandro Polcri, con il 53-46% dei voti, i suoi avversari si fermano rispettivamente, Mario Checaglini al 28,04 e Danilo Bianchi al 18,50%. In qualche modo c'è stato, non voglio dire un prebiscito nei confronti della nostra lista civica, ma è stata una valutazione marcata, credo, dell'elettorato che ha vogliuto in qualche modo privilegiare il concetto della continuità, della stabilità e dell'umiltà perché in questi cinque anni, lo voglio dire, abbiamo sempre avuto un atteggiamento non polemico nei confronti degli altri, abbiamo sempre lavorato a testa bassa, con i piedi per terra e credo che la gente abbia voluto gratificare questa amministrazione che comunque sia in questi cinque anni è sempre stata molto presente. A Sansepolcro, con un'amministrazione di centrodestra uscente, si va al ballottaggio. Andrea Laurenzi, candidato per le forze di centro-sinistra, ma non appoggiato dal Movimento 5 Stelle, che aveva una sua candidata, Katia Giorni, supera il 40% dei consensi, ma non basta per essere eletto in un comune che supera i 15.000 abitanti. Tra due settimane si torna al voto. E in cinque comuni dell'Aretino in queste ore si votava anche per le elezioni suppletive. Gli elettori residenti a Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana erano chiamati ad indicare chi andrà a rappresentare il collegio di Siena e Arezzo, denominato Toscana 12, in Parlamento dopo le dimissioni di Padoan. Passa il segretario Dem Enrico Letta, che nel dettaglio vince anche nei comuni di Cortona, Foiano e Lucignano. Negli altri due comuni, Castiglion Fiorentino e Marciano, si è imposto invece il candidato del centrodestra, Tommaso Marrocchesi, ma in Parlamento entra Enrico Letta. A Montevarchi, netta riconferma di Silvia Chiassai, che quindi raggiunge l'importante risultato di bissare una vittoria già raggiunta cinque anni fa nella cittadina del Valdarno Aretino. Nulla ha potuto il suo avversario, Luca Canonici, sostenuto dalle forze di centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle. Montevarchi rimane saldamente in mano al centrodestra. Grazie. Grazie.